Perché molti giocatori che arrivano alla Juventus come grandi promesse non rendono come previsto con Allegri? E nei casi più recenti, ciò sta accadendo con Timothy Weah, l'americano che è stato un grande colpo di mercato per la Juve, ora è al centro delle discussioni poiché non sta ottenendo le prestazioni attese. In un momento in cui le cose non stanno andando come previsto per Allegri, le scarse prestazioni di Timothy vengono anche attribuite all'allenatore. La Juventus sta già pensando a un trasferimento in estate per l'americano, forse in prestito o a titolo definitivo, ancora non è ben chiaro. Tuttavia, nelle sue recenti prestazioni con gli Stati Uniti, Timothy giocando come alla destra è riuscito a mostrare un buon calcio, il che fa pensare a molti che Allegri sia responsabile delle scarse prestazioni dell'americano alla Juventus. E per te, quale decisione dovrebbe prendere la Juventus su Timothy Weah? Venderlo. Darlo in prestito. Ottenerlo in squadra.